La forbicina, o taglia forbici, tenaglietta, forbicetta, forfecchia e così via, è un insetto onnivoro, ma prevalentemente fitofago. Il nome scientifico Forficula auricularia è dovuto alla falsa credenza che questo insetto abbia l'abitudine di introdursi nell'orecchio umano. L'insetto è occasionalmente dannoso alle coltivazioni e alle derrate alimentari e per la sua polifacia può attaccare culture erbacee in pieno campo, ortive, ornamentali e arboree da frutto, ma in genere le popolazioni si mantengono entro i livelli tali da essere considerato come un fitofago secondario. Le femmine trascorrono l'inverno in nidi scavati nel terreno in cui depongono le uova. Esse producono circa 50 uova che nascondono in autunno in questo nido e poi entrano in uno stato di letardo. In primavera si risvegliano durante la schiusa delle uova. Le neanidi nascono già in pieno inverno e con i primi caldi si disperdono nell'ambiente. I nuovi adulti compaiono nella tarda primavera. A volte si comporta come predatore, ricoprendo il ruolo di insetto ausiliario in molte coltivazioni. Frequenta anche gli ambienti antropizzati e può rivenirsi frequentemente anche all'interno delle abitazioni di campagna. La forficola, abitudine gregarie e solo occasionalmente, può causare danni alle coltivazioni. Più frequenti danni al ciliegio che in genere interessano i frutti prossimi alla maturazione. Grazie per la visione!